Stati Uniti e Afghanistan hanno completato con successo uno scambio di prigionieri. A Kabul, così, ha potuto far rientro Bashir Nurzai dopo aver trascorso 17 anni in un carcere statunitense con accuse di traffico di eroina. In cambio, il governo afgano ha rilasciato un ingegnere statunitense, Mark Frerich, che era stato arrestato nel febbraio del 2020, mentre lavorava a progetti di sviluppo. Frerich, considerato l'ultimo prigioniero statunitense in mano ai Taliban, è stato consegnato a funzionari di Washington nello stesso scalo di Kabul, da dove è ripartito per gli USA. Le autorità afghane hanno commentato positivamente lo scambio, definito l'inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi. Per il ministro degli esteri talebano, Amir Khan Muttaki, il dialogo e i negoziati permettono di trovare soluzioni ad ogni contrasto.